Le concessioni ai Balneari vengono prolungate fino al 2027, le gare dovranno essere bandite entro il giugno precedente e chi subentra dovrà pagare un indennizzo a chi lascia e assicurare la continuità occupazionale dei lavoratori. Il caso Balneari trova, insomma, finalmente una quadra e il Consiglio dei Ministri approva il decreto che è frutto di una serie di confronti ed equilibri. Il caso, insomma, è chiuso. La partita, visto impegnato il ministro e commissario Wayne Pector e Raffaele Fitto, in una serie di contatti da Bruxelles e Quirinale alle categorie interessate. E non è detto che abbia incrociato anche altri dossier. Con una chiusa finale, tutta politica e il via libera definitivo arriva in un vertice di maggioranza tra la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Tajani e Salvini e il leader di noi moderati Maurizio Lupi, oltre ovviamente al ministro competente Raffaele Fitto. La novità principale è una nuova proroga, come detto, delle concessioni fino a settembre 2027, che però, in caso di ragioni oggettive che impediscono il completamento delle procedure di gara, si prevede un ulteriore possibile slittamento fino al 31 marzo 2028. In ogni caso, la durata delle nuove concessioni dovrà essere di almeno 5 anni e non più di 20, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati. Quanto a legare, il termine ultimo è il 30 giugno 2027, data entro la quale le concessioni dovranno essere messe all'asta. Per i balneari però spunta il salvagente degli indennizi, che in ogni caso non coinvolgerà le casse dello Stato. Nella bozza, infatti, si legge che il concessionario uscente avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante. In pratica, una sorta di canone di avviamento dell'attività pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati nell'ultimo quinquennio.